Oresti Florenzano non è più il dinettore generale dell'ASREM, la decisione adottata dalla giunta regionale al suo posto Evelina Gollo. A Campobasso è il consiglio comunale monotematico sulla sanità, intanto il Gemelli non riesce a pagare gli stipendi, da domani il blocco alla radioterapia. Brutta notizia per l'ospedale veneziale che perde uno dei più stimati primari, nonostante la mobilitazione che c'era stata in città contro l'ipotesi di avvicendamento. Il presidente del consiglio Micone auspica l'anticipo della data delle regionali e il Molise rischia di perdere fondi per un miliardo. A Isernia iniziate le attività edili per la realizzazione del McDonald's sorgerà accanto al centro commerciale. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TVI. In apertura del nostro notiziario serale c'è un'ampia pagina dedicata alla sanità. L'ospedale di Isernia perde uno dei primari più stimati con una delibera firmata questa mattina. Poco dopo aver saputo della sua sostituzione per mano della giunta regionale, l'ormai ex direttore generale Asrem Oreste Florenzano ha decretato il cambio al vertice del reparto di chirurgia del veneziale. Alla guida dell'unità operativa complessa non ci sarà più il molisano Giovanni Vigliardi, ma Guido Schaudone, chirurgo napoletano associato alla facoltà di medicina del Molise. Un'ipotesi già paventata tempo fa che aveva ottenuto in città una levata di scudi generale in difesa del dottor Vigliardi. La mobilitazione collettiva tuttavia non è bastata a scongiurare l'avvicendamento al vertice del reparto di chirurgia. Tagli alle strutture sanitarie accreditate, Tecla Boccardo della UIL prende posizione contro le decisioni del commissario Toma. Scelte anacronistiche dice che rischiano di distruggere le eccellenze del Molise. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Il ritardo della regione nel pagamento delle fatture dovute non ci ha consentito di provvedere con puntualità al pagamento degli stipendi correnti. Alla comunicazione stringata ma al contempo allarmante nei contenuti da parte della presidenza del Gemelli Molise, diramata nelle ultime ore, fanno seguito le dichiarazioni in questo caso dai toni addirittura drammatici dello stesso Stefano Petracca intervenuto stamattina ai lavori del Consiglio Comunale di Campobasso incentrati sulla sanità. Nel suo accorato intervento il presidente del Consiglio d'amministrazione del Gemelli ha ribadito che laddove nella giornata odierna non dovesse esserci una soluzione, da domani la struttura inizierà gradualmente a non accettare più pazienti in radioterapia, fatti salvi quanti sono già in cura. Insomma, gli effetti della controversia sanitaria tra struttura commissariale e aziende accreditate stanno per ripercuotersi sui malati. Proprio da loro, dalla parte più debole e per questo maggiormente bisognosa di attenzione, parte la presa di posizione di Tecla Boccardo contro il presidente commissario alla sanità Donato Toma. Con il taglio del budget assegnato alle strutture accreditate e in particolare all'assistenza specialistica a radioterapica del Gemelli, dimentica che dietro queste decisioni ci sono centinaia di malati bisognosi di cure e lavoratori onesti danneggiati da quelle scelte. Il segretario regionale della UIL, in riferimento alle posizioni assunte dal commissario ad acta, parla di scelte anacronistiche che non fanno altro che danneggiare e distruggere un sistema faticosamente costruito nel tempo, come le eccellenze sanitarie di cui il Molise può vantare. Eppure questo danno per la sanità regionale e per il Molise tutto potrebbe essere evitato, rimarca Boccardo. Siamo indignati perché ci sono soluzioni alternative praticabili, a partire dall'utilizzo delle risorse ancora bloccate per l'abbattimento delle liste d'attesa finanziate dal Ministero. Mentre per i pazienti provenienti da fuori regione basterebbe stabilire che le strutture accreditate potranno essere pagate solo a seguito dell'effettiva riscossione delle risorse da parte delle altre regioni, riducendo di fatto con la compensazione il deficit che deriva dalla mobilità passiva, con un'operazione virtuosa per le casse regionali. Basterebbe un po' di buonsenso e di altruismo, conclude Boccardo. Due virtù da esercitare al più presto. L'appello di Petracca induce infatti a pensare che di tempo ormai non ce n'è più. Rialacciandoci al servizio che abbiamo appena visto, in assenza di soluzioni che aspettiamo oggi, purtroppo da domani inizieremo gradualmente a non accettare più pazienti a radioterapia. Lo ha detto questa mattina il presidente del Gemelli Molise, Stefano Petracca, nel suo intervento in Consiglio Comunale a Campobasso. Il nodo della questione è il decreto commissariale nel quale si stabilisce che le prestazioni di radioterapia del Gemelli vengano validate dal direttore del reparto di Oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Oggi siamo fuori legge e ha detto a riguardo Petracca, non stiamo applicando il decreto. Il Gemelli dunque sta continuando a seguire le indicazioni dei propri specialisti, effettuando le schermature in base alle esigenze rappresentate e non sui numeri inferiori rispetto alle richieste comunicati dal centro proscrittore del Cardarelli. E come anticipato in apertura, Oreste Florenzano non è più il direttore generale dell'ASREM. Una decisione sofferta che è arrivata dopo una lunghissima riunione della giunta regionale, terminata questa mattina. Al suo posto subentrerà la direttrice sanitaria dell'ASREM, Evelina Gollo, che reggerà i vertici dell'azienda sanitaria regionale fino a quando non sarà nominato il successore di Florenzano. Alla notizia il nostro direttore Enzo Di Gaetano ha contattato l'ex direttore generale. Ascoltiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno dottor Florenzano, sono Enzo Di Gaetano, TV Molise. La chiamo per la notizia che è arrivata in questi minuti. Non le hanno rinnovato il contratto. Secondo lei perché è successo questo? Non ho commenti, grazie. Veramente non ho commenti da fare. Nessun commento? Ma le hanno spiegato una motivazione? Nessun commento, le ho detto, non voglio commentare, grazie. Nessun commento, niente da dire insomma? No, assolutamente niente, grazie. Ma neanche... Grazie della telefonata. Va bene, grazie e buona fortuna a lei. Questa mattina a Campobasso l'atteso consiglio comunale monotematico sulla sanità richiesto dal sindaco Gravina. Tanti gli assenti illustri e dalla regione presente solo cefaratti. Sentiamo il servizio di Francesco Adam. Questa mattina l'atteso consiglio comunale monotematico richiesto dal primo cittadino di Campobasso, Roberto Gravina. La richiesta del sindaco Penta Stellato però sembrerebbe essere stata accolta con poco trasporto da parte dei colleghi di partito. Assenti tutti grillini, da Greco a Primiani, Antonio Federico, anche altri assenti illustri come Toma, il neosubcommissario e i parlamentari della regione. Presente solo cefaratti. Stiamo vivendo ormai da settimane, assistiamo a notizie che si rincorrono, a problemi di contabilità, di budget, ma resta sempre il tema dei cittadini. I cittadini evidentemente fanno le loro scelte e si aspettano che noi troviamo delle soluzioni e questo chiaramente compete al decisore. Questa non è sensibilità, è attenzione sostanzialmente al territorio. Ciò che accade nel comune di Campobasso è a valore regionale perché ospitiamo la principale struttura sanitaria pubblica e abbiamo sul nostro territorio anche degli operatori privati e quindi è evidente che ciò che succede a Campobasso si riverbera su tutta la regione e ovviamente questo accade viceversa anche per ciò che accade in altri territori. Ci sono delle assenze importanti, il commissario, ci sono sempre motivi istituzionali che determinano magari queste assenze, però è significativo anche questo? Ognuno di noi è preso da impegno, non devo giustificare nessuno, poi ognuno si riesce a organizzare la propria agenda facendo delle priorità e evidentemente ci sono sul tavolo altre priorità per coloro che almeno hanno avuto l'accortezza di comunicare la loro assenza, c'è chi invece neanche questo ha fatto, spero che recuperi con collegamenti online. Decreto Molise, sembra che il decreto Calabria è stato fatto, però per il Molise c'è ancora sempre qualche attesa? Esatto, questo è uno dei temi, voglio dire la campagna elettorale è finita, le attese sono tante, c'è l'attenzione per un tema che non lascia tranquilli i cittadini molisani, tenete conto che la nostra è una popolazione molto anziana e quindi è chiaro che c'è preoccupazione non soltanto per le persone più anziane ma anche per i familiari di queste persone che non vorrei mai debbano nuovamente riprendere i viaggi della speranza che purtroppo sono già oggi una realtà perché noi abbiamo una mobilità al di fuori, quindi che al di fuori del nostro territorio è ancora molto elevata e questo è evidente, non è la cartina di torna sole di quella che è l'attuale organizzazione sanitaria della nostra regione. Si parlava e sottolineava l'aspetto, un problema contabile di base da 2007 il commissariamento però il problema contabile può creare tante problematiche ai molisani, popolazione anziana e popolazione sofferente possiamo dire. Allora ci sono tanti aspetti, il problema contabile è chiaro che deve interessare noi, interessa l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione chiaramente regionale ed è giusto che se ci sono delle regole vanno rispettate evidentemente però le regole vanno riviste e questo non per avvantaggiare qualcuno chi deve essere avvantaggiato sono i cittadini, quindi sono coloro che con un attuale assetto non vedono rispettati i propri diritti di assistenza e di cura e questo è un fatto. Poi c'è un aspetto contabile che ha carattere burocratico, vuoi sapere che la sanità è su base regionale e questo però pone dei problemi per la gestione di quelle che sono le prestazioni che il cittadino molisano svolge fuori dal proprio territorio e anche di coloro che invece vengono a curarsi nel nostro territorio. Questo meccanismo del budget quindi per coloro che sono intraregionali o extraregionali causa è uno dei problemi che causa dei disallineamenti per quanto riguarda gli aspetti finanziari e anche questo deve essere rivisto evidentemente. E restiamo sempre con Francesco Adamo sul Consiglio monotematico di Campobasso ascoltando le posizioni di alcuni degli intervenuti pubblico e privato devono vivere in forte sinergia incredibile la situazione attuale così i comitati e le associazioni sindacali presenti. Ad aver accolto la richiesta di confronto sul tema sanità lanciata dal sindaco Gravina i vari comitati e associazioni sindacali e le strutture private convenzionate. Stare qui a dover prendere le difese secondo me è una cosa assurda davvero quindi è inconcepibile come ancora oggi noi dobbiamo vedere questa forte contrapposizione tra pubblico e privato ci fa molto male a noi pazienti, a noi cittadini molisani noi vorremmo vedere una sanità dove pubblico e privato vivono in una sinergia in una sorta anche di collaborazione se possiamo parlare di collaborazione tra entrambi perché credo che al centro di tutto questo discorso al primo posto ci deve essere proprio la tutela della salute che come diceva prima anche il sindaco nel suo intervento in aula è un diritto costituzionalmente garantito e quindi non possiamo noi immaginare che la salute del cittadino sia oggetto e strumento di diatribe secondo me veramente inutili in alcuni momenti. Giuseppina Bozza, parliamo della consulta della sanità un organismo rappresentativo importante che mette insieme più di 35 associazioni 38 associazioni che collaborano col comune di Campobasso con un obiettivo comune, la tutela dei servizi sociosanitari e la tutela della sanità pubblica E questo organismo è propositivo, consultivo? Consultivo ma anche propositivo in realtà da quando si è insediata la consulta sta lavorando a braccetto col comune di Campobasso e col sindaco che ci tiene in considerazione per ogni attività quindi grazie al comune che ci siamo e quindi possiamo dire anche la nostra da parte di tutti i cittadini Ci sono tante carenze, tante problematiche di cui poi a soffrire sono proprio i medici I medici hanno per la loro missione professionale anche di ontologica di provvedere alle cure delle malattie, a curare le persone, diciamo non le malattie, le persone Il problema vero è la mancanza dei medici quindi non è la conflittualità ma è la carenza che purtroppo negli anni si è staurata e che non è mai stata colmata causa cattiva gestione generale della sanità Non voglio dire altro perché ci sarebbe molto da dire Presenti i gemelli Neorome dei Villa Maria Si sta vivendo una contrapposizione, anzi forte contrapposizione Quello che ci vorrebbe invece è stirare gli animi, diradare gli animi anche perché l'obiettivo nostro di tutta la sanità privata parlo a nome ovviamente di Neorome è una collaborazione pubblico privato, curare i pazienti salvare la vita delle persone Tra l'altro a livello operativo facciamo questo inciso quotidianamente poi i nostri medici collaborano con i medici del pubblico lo leggiamo dalla stampa quello che però auspichiamo è una revisione complessiva della programmazione tenendo conto anche del fabbisogno, voglio dire, anzi soprattutto del fabbisogno come dice anche la norma La nostra preoccupazione fondamentale ovviamente sono i lavoratori che ovviamente di fronte a queste situazioni non hanno anche loro delle certezze Sì, abbiamo vissuto in questi mesi naturalmente delle problematiche anche importanti che però stiamo cercando di risolvere ovviamente per quanto ci riguarda abbiamo firmato anche il contratto del 2022 e abbiamo firmato anche il contratto del 2023 e speriamo che le situazioni si risolvano anche per le altre strutture questo è il problema E un uomo di 48 anni ha perso la vita oggi per quelle che sembrano essere le conseguenze di ferite da arma da taglio a dare l'allarme nella tarda mattinata La madre che ha trovato il figlio in camera in una pozza di sangue durante il trasporto in ospedale è sopraggiunto il decesso che è ora oggetto di una indagine della polizia Gli uomini della squadra mobile di Campobasso e la scientifica hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento in una zona semicentrale di Campobasso Al momento non si esclude alcuna ipotesi ma quella più plausibile sembra essere quella di un gesto volontario La regione rischia una paralisi di sei mesi a causa delle elezioni di fine giugno bisogna anticiparle altrimenti il rischio è di perdere ingenti fondi comunitari per circa un miliardo Enzo Di Gaetano ne ha parlato in collegamento con il presidente del Consiglio Salvatore Micone Siamo in collegamento con il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone un momento delicatissimo in questa storia politica degli ultimi giorni degli ultimi mesi con le elezioni fissate al 25-26 giugno si è complicato tutto il quadro politico-istituzionale ma in particolare perché? Perché praticamente facendo riferimento alle ultime elezioni del 2018 il 9 marzo si blocca tutto Che succede il 9 marzo? Presidente Micone Allora intanto dobbiamo fare una considerazione di precisione su quelli che sono i dettami della legge 165 del 2004 che fissa il termine della legislatura con il 22 aprile 2023 perché riguarda praticamente i 5 anni che sono trascorsi dalla data dell'ultima elezione regionale quindi fissando questa data del termine di legislatura l'articolo 32 dello statuto regionale disciplina la fase del cosiddetto depotenziamento che è fissato al corso del 46esimo giorno antecedente la scadenza del Consiglio regionale quindi partendo da quella data del 22 aprile i 46 giorni arrivano all'8 marzo che praticamente va a limitare i poteri ai soli affari urgenti e indifferibili quindi ci sarà questo blocco delle attività del Consiglio regionale ma non solo anche degli altri organi che riguardano quindi le commissioni e l'ufficio di presidenza del Consiglio Quindi dal 9 marzo avremo praticamente una regione semiparalizzata Presidente Micone ma praticamente sì se non per gli atti diciamo urgenti e indifferibili le attività vengono bloccate si fermano e la preoccupazione è proprio quella che con una data fissata al 25 giugno potremmo arrivare molto lunghi sulla ripresa delle attività del Consiglio possiamo fare praticamente due conti molto veloci perché fissando il 25 giugno significa con una proclamazione di tutti gli eletti che solitamente avviene dopo 20-25 giorni e seguendo quello che prevede lo statuto regionale che è a norma dell'articolo 23 l'insediamento del nuovo Consiglio avviene il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione di tutti gli eletti quindi facendo questi conti andiamo a finire praticamente alla settimana precedente il 15 agosto e quindi se calcoliamo che successivamente all'insediamento i primi atti che deve fare l'assemblea legislativa sono quelli della composizione di tutti gli organi calcolando il periodo estivo praticamente un Consiglio regionale che rientra nelle sue funzioni nel mese di settembre quindi prevediamo praticamente sei mesi di blocco quindi una tra virgolette tragedia perché una regione senza bilancio una regione non può cofinanziare i progetti e i finanziamenti del PNRR e i fondi comunitari praticamente andremo al fallimento ecco questo è un giudizio di carattere politico che le sto chiedendo Bicone ma è possibile qualcosa di così negativo per questa regione? Ma in un momento, in un periodo così delicato chiamiamolo nevralgico un po' per la nostra regione sarebbe stato opportuno portare il Consiglio regionale a votare con quanto più celerità possibile ci saremmo aspicati sicuramente il mese di aprile per farlo coincidere con la precedente elezione per allinearlo anche alle elezioni che ci saranno in Friuli Venezia Giulia però nel momento in cui tutto questo non è stato possibile né permesso dal Presidente dell'Aggiunta regionale in quanto ricordiamoci che a lui è deputata la competenza di indire le elezioni ci saremmo almeno auspicati insomma di farle coincidere con le elezioni amministrative stabilite dal Ministero degli Interni per il 14 e il 15 maggio tutto questo il Presidente ha deciso di non farlo mettendo diciamo davvero a serio rischio tante e tante questioni che riguardano il nostro territorio, la nostra regione e io non la penso e non la vedo come lui che ci sono tante cose da completare anzi è il contrario ci saranno tante cose che non si potranno completare con questo fermo insomma noi non possiamo assolutamente permetterci una paralisi di sei mesi correremo il rischio di perdere un miliardo di fondi comunitari Presidente Micone ma non si può fare un appello di tutti i partiti si leggeva sui giornali di un appello dei partiti del centro-destra a Toma perché rifletta su questa emergenza capisca che non c'è una maggioranza in Consiglio regionale non può approvare il bilancio e quindi insomma si anticipino queste elezioni si può fare questa pressione delicata nei confronti di Toma insomma si può fare insomma sotto l'aspetto insomma dell'invito al Presidente e questo a mio avviso deve essere fatto da tutte le parti politiche sia di maggioranza che di minoranza perché poi tutto questo va nell'interesse dei cittadini molisani e dei territori della nostra regione poi ci sono anche aspetti che riguardano proprio l'organizzazione e l'aspetto logistico delle elezioni stesse perché ricordiamoci che il 25 giugno praticamente ci troviamo nel pieno periodo estivo dove tante famiglie preferiscono anche per motivi economici andare in vacanze a fine di giugno e non nell'alta stagione di luglio ed agosto e poi c'è l'aspetto che riguarda il sistema scolastico e tutti i testi fanno gli esami di Stato e poi ricordiamoci sono esami di Stato che si svolgono in tutta Italia su direttiva del Ministero dell'Istruzione e sarebbe insomma un'anomalia far svolgere gli esami di Stato nella nostra regione con una data differente da quella delle altre regioni perché ovviamente gli istituti scolastici sarebbero impegnati dai seggi elettorali e questo sarebbe insomma un bel problema per quanto riguarda la coincidenza dei due appuntamenti quello elettorale e quello degli esami di Stato quindi una serie di situazioni che a mio avviso dovrebbero avere da parte di tutti il buonsenso di portare ad anticipare questa data oltre al fatto che questa decisione non era presa da sola da parte del Presidente della Regione il Presidente doveva avere anche in questa occasione il garbo istituzionale di interpellare i partiti e i gruppi consigliari Grazie Micone ci siamo detti tutto la ringrazio per questo suo intervento è stato molto chiaro insomma siamo di fonte al baratro speriamo insomma che non caschiamo nel precipizio restituisco la linea al telegiornale Omicidio di Santa Maria del Molise depositate le motivazioni del dispositivo con cui il riesame tre settimane fa aveva sposato la linea della Procura di Isernia che aveva richiesto la detenzione in carcere per Irmaforte al posto dei domiciliari per i giudici del Tribunale di Campobasso la ricostruzione dei fatti sarebbe diversa da quella effettuata dalla donna e il delitto sarebbe efferato motivo per cui in attesa del processo il riesame ha optato per la misura cautelare detentiva alla difesa procede con il ricorso in Cassazione fino ad allora la 66enne resterà ai domiciliari a casa di un congiunto e gli amanti del McDonald's non dovranno aspettare a lungo partiti i lavori di realizzazione della filiale Isernina del noto fast food americano l'apertura è prevista per il mese di giugno il McDonald's ad Isernia presto realtà dopo la determina del SUAP che aveva autorizzato l'avvio dei lavori sono partite ufficialmente le attività per la realizzazione del fast food della catena americana in provincia di Isernia l'immobile sorgerà tra la statale 17 e via Palatucci l'annuncio dello sbarco nel capoluogopentro del noto marchio statunitense era stato fatto in estate tra la sorpresa della popolazione che forse non si aspettava che una realtà di questo calibro potesse scegliere di investire in città e lo scetticismo di chi dubitava che alla fine l'iniziativa sarebbe andata in porto da allora è iniziata l'attesa dei fan del brand di hamburger più famoso del mondo cresciuta fino alla notizia data a gennaio del via libera amministrativo alla realizzazione della struttura da qualche giorno le ruspe hanno iniziato a lavorare il terreno che è stato già dissodato e spianato la fase preparatoria è stata portata a termine e la prossima tappa ora sarà il passaggio di consegne con la ditta che dovrà materialmente eseguire i lavori degli interventi di edificazione dovrebbero essere brevi gli isernini finora erano abituati a prevedere delle trasferte verso Campobasso oppure Cassino per raggiungere il McDonald's più vicino per concedersi il piacere di gustare un Big Mac oppure far felici i bambini con le ambite sorprese degli Happy Meal che di per sé sono diventate oggetto di collezionismo a breve per godersi un Sunday o un Chicken McNuggets non sarà più necessario mettersi in macchina l'apertura della filiale isernina infatti salvo imprevisti è attesa per il prossimo mese di giugno sul fronte delle ricadute occupazionali in estate il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Roberto Di Baggio aveva ipotizzato una stima di circa 20 nuovi posti di lavoro il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo ha convocato per domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile 2023 i comizi elettorali del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del comune di Montefalcone del Sannio ballottaggio necessario alla correzione del risultato elettorale delle elezioni del 12 giugno 2022 il turno ordinario delle elezioni amministrative per nove comuni della provincia la cui scadenza naturale ricade nel corrente anno 2023 invece è fissato nei giorni 14 e 15 maggio 2023 negli ultimi dieci anni in Molise hanno chiuso i battenti 175 negozi al dettaglio i dati dell'indagine dell'ufficio studi di Confcommercio confermano quello che era già sotto gli occhi di tutti in Molise fare affari è sempre più difficile i dettagli insieme ad Antonia Cristinzio una crisi che non si ferma quella che il settore del commercio sta vivendo in Molise si tratta di una situazione che non passa certo inosservata perché le sale cinesche abbassate sono sotto gli occhi di tutti ma che ora viene ufficializzata anche dalla Confcommercio secondo l'analisi effettuata dall'osservatorio sulla demografia di imprese in tutte le città italiane negli ultimi dieci anni in Molise hanno chiuso i battenti ben 175 negozi al dettaglio ciò prendendo in considerazione solo Campobasso e Isernia ma se si contassero anche gli altri comuni il dato sarebbe ancora più allarmante l'ufficio studi di Confcommercio che ha portato avanti l'indagine insieme al centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne ha passato in rassegna il decennio che va dal 2012 al 2022 i cambiamenti nelle preferenze degli abitudini dei consumatori lo sviluppo delle vendite online e il rapporto tra piccola e grande distribuzione hanno modificato la tipologia dei negozi esistenti il commercio ambulante tende a essere meno diffuso mentre vanno forti le attività di ristorazione al di là della rimodulazione delle attività commerciali però il Molise sta subendo pesantemente le conseguenze di una crisi che viene da lontano e che ha continuato ad aggravarsi con la pandemia con il caro energia con la guerra in Ucraina ad avere la peggio in questo scenario è Isernia dove non si salvano neppure hotel bar e ristoranti che invece sono in crescita in tutta Italia Logo Pentro dal 2019 al 2022 hanno chiuso quattro attività di questo tipo una nel centro storico e tre negli altri quartieri la parte antica della città soffre più delle altre zone qui negli ultimi due anni si sono registrate cinque chiusure a Campobasso invece il dato meno positivo riguarda il commercial dettaglio che negli ultimi due anni ha perso 42 imprese di cui nove nel centro storico in crescita però alberghi ed esercizi ristorativi con 18 unità in più è Annalisa Dorazio la neo eletta di Conf Cooperative Molise quale rappresentante della commissione dirigenti cooperatrici al tavolo della commissione nazionale quale neoreferente della commissione dirigenti cooperatrici della Conf Cooperative Molise il mio impegno afferma la Dorazio sarà quello di portare sul tavolo della commissione nazionale le varie istanze delle cooperative regionali relativamente all'impiego femminile con proposte migliorative ed idee di sviluppo i benefici per la salute e per la vita in generale della dieta mediterranea esperti ne hanno parlato stamane agli studenti del Pilla di Venafro per noi c'era Domenico Marzocchella una copia della piramide alimentare distribuita ad ogni studente e dalla cattedra gli esperti ad illustrarne le caratteristiche ai fini di un regime alimentare corretto ed equilibrato è stato lo strumento attraverso cui parlare dei benefici dal punto di vista nutrizionale salutistico e sociale della dieta mediterranea il convegno rivolto agli studenti delle classi quinte delle elementari e prime delle medie stamane presso l'istituto comprensivo Pilla di Venafro la scuola di Venafro è molto attenta a questi argomenti la dieta mediterranea è un argomento importantissimo tra l'altro fa parte anche del programma di tecnologia e quindi parlare di dieta ai ragazzi questo momento importante della loro crescita secondo me è fondamentale noi quindi abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi su questo argomento parlando di dieta mediterranea questa dieta importantissima nell'ambito di questa dieta di parlare anche dell'importanza di questo alimento particolare che è l'olio d'oliva tra gli intervenuti il dottor Gianluca Ciammetti il medico del Veneziale di Sernia ha illustrato ai ragazzi coinvolgendoli nella spiegazione come alla base della piramide ci siano i cibi da consumare quotidianamente più volte al giorno mentre salendo ai livelli via via più alti la frequenza di consumo diminuisce sempre di più non ci sono alimenti esclusi dalla piramide tutte le categorie sono importanti per apportare i giusti nutrienti ha rimarcato l'esperto essenziale però scegliere solo prodotti alimentari di qualità e di stagione e a proposito dei prodotti di qualità espressione e anzi identificativi del territorio venafrano primo fra tutti l'olio d'oliva a riguardo l'intervento dell'agronomo Ferdinando Alterio questo prodotto che otteniamo per spremitura meccanicamente ha delle caratteristiche veramente eccezionali possiamo citare il fatto che il bambino dopo che è stato allattato dalla mamma e incomincia lo svezzamento il primo prodotto che si usa nell'alimentazione di questo bambino è l'olio di oliva quindi come se ci fosse una continuazione del latte attraverso l'olio quindi nella formazione di questo nuovo individuo poi noi di Venafro dobbiamo essere particolarmente gradi a questa pianta e a questo prodotto perché forse l'olio e l'olivo l'olivo dal punto di vista paesaggistico oggi ne troviamo giovamento con il riconosciuto parco regionale storico dell'olivo da parte del ministero ma soprattutto per l'olio che nel passato insieme con i cereali ha permesso di incrementare naturalmente il reddito delle persone e di costruire questa città stupenda grazie ai prodotti che produceva questa area dal punto di vista ambientale veramente felice Paesi che vai lo storico programma di Rai 1 condotto da Livio Leonardi domenica 5 marzo dalle 9.40 alle 10.30 racconterà il Molise partendo dal capoluogo di regione Leonardi partendo da piazza Vittorio Emanuele II condurrà il suo pubblico sulle tracce della leggendaria storia della provincia di Campobasso attraverso un affascinante viaggio tra sacro e profano il calore l'entusiasmo della folla e l'intesa creatasi con le delegazioni Mauro Gioielli racconta in retroscena della prima edizione del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe organizzato dall'Associazione Artemide siamo insieme a Mauro Gioielli il direttore artistico del Carnevale europeo delle Maschere Zoomorfe che ha segnato un grande successo in città direttore com'è andata? beh direi che è andata bene anzi benissimo ho trovato molto entusiasmo nella città nei cittadini anche nei visitatori e credo che alla fine più che le maschere Carnevale i protagonisti sono stati proprio loro cioè le persone che sono venute qui a Isernia e che hanno invaso la città un numero mai visto io non sono giovanissimo ma così tante persone un pubblico così numeroso io non l'avevo mai visto qualche aneddoto qualche curiosità ad esempio la maschera della Sardegna molto interessante perché è stata recuperata sulla base di una poesia di un gesuita vissuto nel Settecento che era andato a Sorgono la città da cui sono venuti i sardi con la maschera dell'urso e degli arestes che è una storia molto bella perché addirittura si parlava di sacrifici umani sicuramente erano simbolici ma in questa poesia c'è una descrizione molto cruenta molto forte altri aspetti particolari è la gioiosità dei popoli balcanici perché gli sloveni e i croati si sono dimostrati molto amichevoli con tutti con noi appena ci siamo conosciuti subito quelle cose che portano al contatto umano vero e sincero la bevuta insieme la mangiata insieme ci siamo raccontati delle cose specialmente con i croati che come sapete nel Molise ci sono tre comunità croate molisane tre paesi ed erano accompagnati da un parroco che era stato diversi anni a Montemitro quindi c'era anche questo questo aspetto che ci ha legati ancora di più altri aneddoti sono legati ad esempio alle maschere del Carnevale di Aliano perché sono maschere riscoperte sulla base del romanzo di Carlo Levi Cristo si è fermato ad Eboli e quando io ho spiegato un aspetto della loro pantomima o comunque delle loro scenette loro non lo conoscevano questo aspetto nel senso che quando tu parli di queste cose loro dicono non le facciamo perché si è sempre fatto però poi io gli ho spiegato alcune cose che danno al loro Carnevale una profondità storica addirittura di due millenni come simbologie come caratteristiche sono rimasti meravigliati molto sorpresi ma anche molto felici perché hanno un elemento in più da divulgare rispetto alla loro tradizione e intanto si guarda immagino alla prossima edizione si pensa già a qualche novità o Cavallo che vince non si cambia spesso quando si dice lo rifaremo l'anno prossimo abbiamo intenzione di ampliare l'evento di perfezionarlo poi nascono difficoltà organizzative difficoltà di reperimento di risorse finanziarie però le intenzioni ci sono e soprattutto l'associazione che ha organizzato che è Artemide so che hanno già in mente parecchie novità e hanno in mente parecchi altri gruppi da invitare Esernia Francia Spagna Austria Svizzera quindi già hanno un quadro abbastanza esatto di quel che potrà succedere L'azienda autonoma di soggiorno e turismo nell'ambito del progetto Le autentiche emozioni del Molise sarà presente al CIBUS in programma Parma il 29 e 30 marzo con le aziende del Molise per la promozione del turismo e delle imprese del settore saranno presentate con degustazioni le specialità enogastronomiche regionali mentre alla BIT di Milano sono stati promossi i pacchetti turistici tra tradizione e innovazione le aziende interessate dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 12 di giovedì 2 marzo e adesso spazio alla nostra Antonia Cristinzio che ci presenta le notizie più importanti di oggi provenienti dall'Italia e dall'estero Sì Carla vediamo insieme le notizie dell'ultima ora andiamo su Lanza Calabria migranti naufragio steccato di Cutro Frontex subito avvertita l'Italia ha detto guardia costiera alle 4 e 30 le prime chiamate trovato un altro corpo e di un uomo sale a 64 il bilancio ufficiale rinviata domani la camera ardente un aereo Frontex ha reso noto di aver nelle tarde ore di sabato mentre sorvegliava l'area italiana di ricerca e soccorso avvistato un'imbarcazione pesantemente sovraffollata che si dirigeva verso le coste italiane come sempre in questi casi dicono di aver immediatamente informato tutte le autorità italiane dell'avvistamento su Sky TG24 invece il caso Catargate gli avvocati di Cozzolino accusano Panzeri dicono ha inventato tutto i legali che si oppongono all'estradizione giudicano le dichiarazioni di Antonio Panzeri tardive fantasiose prive di riscontro e diffuse in violazione del segreto istruttorio poi su Repubblica invece c'è il conflitto russo-ucraino Putin firma la sospensione del New Start il conduttore russo Soloviov invece attacca l'Italia ci ha chiamato Bastardi chiuso e poi riaperto l'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo fonti di stampa hanno parlato di un oggetto volante non identificato in caccia in volo le autorità russe che hanno detto esercitazione aerea battaglia intorno a Bakhmut miliziani Wagner all'attacco la missione del segretario di Stato USA nell'ex Unione Sovietica Mosca che dice droni abbattuti su diverse regioni russe e poi la stampa la riforma cartabia da domani in vigore le nuove norme per separazione e divorzio l'elemento di novità è che i figli saranno sempre ascoltati per i provvedimenti che li riguardano Carla queste erano notizie di questa sera grazie Antonia per la dettagliata panoramica sulle notizie più importanti di oggi noi andiamo invece a vedere che tempo farà nelle prossime ore il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino previsioni per oggi 28 febbraio tempo perturbato su tutta la regione con piogge diffuse anche se di debole intensità previsto un ulteriore peggioramento dalla sera notte con piogge anche a carattere di rovescio temporale specie lungo la costa neve oltre 1300 metri venti in rotazione dei quadranti meridionali mare mosso temperature campo basso minima 5 massima 8 isernia minima 5 massima 12 termoli minima 8 massima 13 venafro minima 7 massima 14 previsioni per domani primo marzo si segnalano acutizzarsi del maltempo su tutta la regione con fenomeni anche intensi sulle zone centrali e lungo la costa nevicate anche abbondanti in alta montagna venti dei quadranti meridionali mare da mosso a molto mosso temperature campo basso minima 5 massima 9 isernia minima 6 massima 11 termoli minima 7 massima 14 venafro minima 6 massima 13 e il meteo era l'ultima rubrica di questa edizione serale del TG di TV in Molise io vi auguro buon proseguimento e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio